Un canale artificiale lungo almeno 45 km che farà ombra a quelli di Panama e Suez collegando il Mar Nero al Mar di Marmara. È il faraonico progetto con cui il premier turco Erdogan sogna di decongestionare il traffico mercantile del Bosforo e ridisegnare la geografia di Istanbul di qui al 2023. Una data corrispondente al centenario della Repubblica a partire dalla quale ha detto Istanbul sarà una città con due mari. Un folle progetto, come lo ha definito lo stesso Erdogan tra gli applausi, che grazie a un corso d'acqua largo 150 metri e profondo 25 sulla riva europea della città la porterà ad estendersi su due penisole e un'isola. All'entusiasmo del premier ed ex sindaco di Istanbul che si dimostra fiducioso sul finanziamento del progetto, l'opposizione risponde parlando di annuncia orologeria in vista delle elezioni del prossimo 12 giugno.